Bene, Radio Night Live è questo regalo che UMG Web Radio, la web radio dell'Università di Catanzaro, promossa dalla Fondazione Università Magna Grecia, vuole fare a tutti gli studenti, a tutti gli ascoltatori che in questa stagione hanno supportato la nostra giovane realtà, abbiamo da poco spento la seconda candelina, con ben 30.000 ascolti, che per una web radio universitaria, ve lo posso assicurare, non sono pochi. Per cui Radio Night Live, che cos'è? Una serata che si svolgerà il 5 giugno all'Hemingway Club di Catanzaro Olido, in cui verrà prevista, oltre all'intrattenimento musicale, anche grande spazio all'arte e al sociale. Per quanto riguarda l'intrattenimento musicale, l'ospite d'eccezione sarà Federico Cimini, questo giovane cantautore calabrese che da poco ha fatto uscire il suo ultimo album per Eira e che sta iniziando a farsi conoscere molto sul territorio nazionale e ha apprezzato e accettato di buon grado di inserire Catanzaro tra le date del suo tour di promozione dell'album e quindi sarà presente con noi a Radio Night Live. Subito dopo il concerto, spazio al DJ Set Rock di Spora, al secolo Marco Macri, che è un giovane DJ catanzarese conosciuto nel panorama alternativo e underground del territorio. In più, dicevamo, grande spazio sia all'arte che al sociale. All'arte perché ci saranno presenti tre artisti catanzaresi, Pino Crisolia, Andrea Grosso Ciponte, Giorgio Alfieri, e al sociale perché abbiamo deciso di metterci in gioco, di provare a fare qualcosa anche noi che possa avere un impatto sul nostro territorio e abbiamo organizzato questa piccola raccolta fondi per l'acquisto di tappeti elastici per la riabilitazione motoria dei pazienti neurologici o comunque affetti da disabilità motorie. Per rendere più allettante agli studenti, comunque al pubblico, questa raccolta fondi abbiamo deciso che chiunque donerà il minimo che è un euro avrà il diritto di partecipare all'estrazione di due biglietti per il concerto di Subsonica di quest'agosto a Catanzaro. Grazie a tutti.